La guerra è finita. La brigata Garibaldi starà qui per un po'. Se sei stato fascista c'entra sempre. E che te sei dimenticato di essere stato fascista pure tu? Comunque guardi che questo non è un tavolo. Questo è l'altare del signore Anca. Un parchino che crede. Che succede? Dio Dio! Dio Dio! Italia! Italia! Il segreto d'Italia. Un film di Antonello Belluco. Prossimamente al cinema.